Guardi, io credo che Berlusconi effettivamente voleva evitare questa divisione, però non ha avuto la possibilità politica di superarla perché al suo interno quelli che stavano alle sue spalle hanno detto di noi, hanno impedito una ricomposizione. Non c'è stato l'ufficio di presidenza, non per una ragione logistica ma per una ragione politica. Presidente,